E' stato individuato questa mattina in una grotta il corpo della 13enne Lara Scamardella, morta ieri durante un'immersione nei fondali dell'isola di Ischia con il suo istruttore Antonio Emanato, di 42 anni. Il corpo privo di vita è stato agganciato dai cavi della squadra di soccorso. Operazione necessaria per evitare che le correnti potessero trascinarlo altrove. L'intervento dovrebbe portare al recupero nel primo pomeriggio. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura che ha disposto all'autopsia sulla salma di Emanato, che si trova ora all'ospedale Rizzoli di Ischia. Oltre a visionare le immagini di una videocamera che l'istruttore aveva con sé, si stanno anche ascoltando i racconti dei soccorritori. Il corpo dell'uomo è stato trovato senza bombole, è possibile quindi che le abbia passate a Lara per permetterle di respirare e guadagnare la superficie. Tutti e due sub da generazioni, Antonio e Lara, entrambi di Bacoli, in provincia di Napoli, dove ieri i parenti e amici si sono radunati nella sede del centro immersioni gestito da Emanato. Non sono mancate polemiche sull'opportunità di far praticare il diving a una minorenne, ma Lara aveva le immersioni nel DNA. Il nonno Giuseppe era noto in paese per essere un pioniere di questo sport. Giuseppe è stato uno di quelli che all'epoca, parliamo degli anni 50-60, capirà che anche la tecnica subacquea non era una delle più diffuse. Lui è stato uno dei pionieri, è stato uno dei primi e quindi questa passione per l'archeologia unita all'attività subacquea ne ha fatto veramente un punto di riferimento. Ma dipende che tipo di brevetto avesse, ci sono delle didattiche che mettono dei limiti rispetto alla profondità. 12 riguarda un certo tipo di attività, 14 un altro tipo di attività. Grazie a tutti. Grazie.